Conciliare la tutela ambientale con il turismo sostenibile e il benessere è stato il tema del convegno organizzato nei giorni scorsi a CERN e di Pineto dall'Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile, dal titolo APTS e Strategie per il Benessere. A parlarne al TG8 è Benigno Dorazio, amministratore unico di APTS e amministratore delegato di Popoli Terme. Quali sono le strategie per il benessere in Abruzzo? Si è abituati a concepire il benessere magari collegato con le spa eccetera e sicuramente questo è un aspetto che riguarda appunto il termalismo di cui ci occupiamo oramai a tempo indeterminato e pieno da due anni. Ma quello che il benessere di cui oggi parliamo, parliamo della legge Abruzzo Regione del Benessere che si compone sostanzialmente di due articoli ma che declina un programma, un'idea di turismo attraverso la qualità della vita. Noi siamo stati definiti la quinta regione al mondo per qualità della vita, Affington USA nel 2015, quindi cerchiamo di fare di un modello Abruzzo l'elemento legato appunto alla qualità della vita, quindi a tutto quello che riguarda la sanità, la prevenzione, la corretta alimentazione, lo stile di vita, la cultura, le tradizioni locali e ovviamente in una regione verde come quella dell'Abruzzo la tutela dell'ambiente. Quindi questi sono i quattro capisaldi di questo programma che è legge della regione e che noi anche attraverso la nostra agenzia andremo ad attuare come elemento fondante del programma di turismo sostenibile. Quindi questa agenzia, altro non è che un'agenzia regionale per il turismo, ma declinata in chiave di sostenibilità. In questa logica ovviamente quelle che sono le cosiddette aree interne tutto sommato hanno un ruolo quasi primario rispetto a altri tipi di turismo più invasivi e quindi è anche un modo per fare un corretto di equilibrio del turismo su tutto il territorio regionale. Insomma il progetto è ambizioso, però stiamo vedendo che ci sono sempre più comuni che ci chiedono di aderire a questo progetto. Oggi ne abbiamo altri che sono venuti qui da noi e quindi piano piano stiamo crescendo e sta diventando una realtà molto importante.